Commercializzavano pallets usati nell'Interland a sud di Milano, ma il loro era un disegno criminoso. Dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Mileniano è emerso che 18 imprese che operavano in questo settore hanno i vasoimposte dirette per 19 milioni e 3 milioni di IVA non pagata. Un'importante attività investigativa che ha consentito di smantellare un sodalizio criminoso di imprese operanti nell'Interland a sud della città, dedito a violare la normativa penale tributaria per ottenere un illecito vantaggio fiscale. Il piano è stato attuato anche grazie all'attività di un consulente amministrativo che suggeriva e proponeva strategie e metodi fiscali e contabili per evadere le imposte e frodare il fisco. Dall'analisi dei dati e delle notizie acquisite, dapprima nell'ambito fiscale e successivamente durante le indagini di Polizia Giudiziaria Delegate è stato accertato il coinvolgimento di numerose imprese facenti capo ad un unico amministratore di fatto che al fine di evadere le imposte e di consentire a terzi l'evasione utilizzava aziende compiacenti al solo scopo di emettere ed utilizzare fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. L'esame della documentazione bancaria acquisita ha permesso di accertare che le imprese coinvolte, gestite formalmente da nulla tenenti ma di fatto facenti capo ad un unico soggetto, hanno movimentato un'ingente quantità di denaro contante. Le fiamme gialle hanno sequestrato in via preventiva oltre 3 milioni e mezzo di euro relativamente a 12 immobili, 18 autoveicoli e 24 rapporti bancari e finanziari e due cassette di sicurezza. Al termine delle indagini coordinate dalla procura di Lodi sono state denunciate 13 persone per associazione a delinquere e concorso nel reato finalizzati al compimento di condotte penalmente rilevanti in materia di imposte sui redditi e IVA.